L'unico di questo video è il Presidente, lui è... Master! 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 Ciao! Oggi siamo in questo nuovissimo vlog Muchos per raccontarvi, per ringraziarvi... Mi nascondo benissimo le tue un piede... Comunque, stavo dicendo... Ehm... Per ringraziarvi di quasi 490 iscritti! Grazie davvero! Grazie, grazie, grazie! E per le 35.000 visual addirittura superate! Mamma mia, pazzurdo! E anche per dirvi che stanno per uscire tantissime nuove serie! Sì! Illusso le Presidente! Stanno per uscire nuovi episodi di 4C5Cina! Bellissimi, mi raccomando guardateli! Poi, stanno per uscire nuovi episodi, una nuova serie... Inizialmente l'avevamo fatta così per scherzare, poi ci siamo accorti che magari... Era più bellino esporla un pochino! Abbiamo fatto anche Hello Neighbor! Ciao vicino! Esatto! E non Eggbor! Sta per uscire... Uscirà una video della settimana! Esatto! A partire dal lunedì prossimo! Poi usciranno... Dal 4 luglio! Il nuovo video del Gentleman! Esatto! Il Gentleman! E uscirà anche dal 4 luglio ragazzi! Con felicità ve lo annuncio! Uscirà... Sì! La nascita di un cacone! La nascita di un cacone! Cacone! Saluti dal genuo a occhio! Cacone! Naturalmente uscirà la prima stagione, poi l'altro stagione usciranno poi ve lo annunceremo! Sì! Poi... Poi prossimamente non si sta ancora dato ufficiale... Uscirà anche 2020! Poi ragazzi usciranno praticamente tutte le nuove serie! Ehm... Ci fa piacere tra l'altro che voi continuate a guardare i nostri post del paranormal perché stanno continuando ad uscire! Ringrazio gli iscritti! E poi ci danno anche tantissimi nuovi gameplay! Cacone! Molto Cacone! Molto Cacone! Noi ci vediamo in un nuovissimo vlog al cesso del maestro! O forse diciamoci! Cacone!